Antonella Clerici in lacrime, perché me lo avete nascosto? Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Antonella Clerici ha fatto un ritorno emozionante al suo habitat naturale. Mentre si trovava ai comandi di Rai 1, la nostra amata presentatrice di Mezzogiorno ha sorpreso tutti con un annuncio straordinario. Le sue parole sono state accompagnate da lacrime sincere durante l'ultimo episodio trasmesso giovedì 14 settembre, come riportato dalla nostra fidata fonte app.it. Inizialmente, Antonella Clerici aveva suggerito una sorpresa in serbo per il pubblico, ma oggi è emerso un segreto ben custodito. Quest'anno, per la prima volta, Antonella ha deciso di indossare il grembiule e mettersi ai fornelli alla fine della puntata. Tuttavia, mentre si preparava a cucinare improvvisamente, è stata interrotta da una melodia d'ingresso straordinaria e Anna Moroni è entrata nello studio. L'emozione ha sopraffatto Antonella, che non aveva la minima idea di questa sorpresa preparata per lei. Senza pensarci due volte, si è diretta verso Anna e le due amiche si sono abbracciate teneramente. Antonella ha condiviso le sue parole di sorpresa e gioia con Anna, esclamando, «Non pensavo di vederti. Sono così felice. Non sapevo nulla, mi avete tenuto all'oscuro. Ma che bellissima sorpresa che mi hai fatto». La presenza di Anna Moroni nello studio non è stata casuale, è stata accuratamente pianificata per coincidere con il momento in cui Antonella stava preparando la sua speciale salsa tonnata. Antonella ha chiesto il prezioso aiuto di Anna per realizzare quella ricetta che le era stata tramandata dalla madre. Ti ringraziamo per aver guardato questo video e se ti è piaciuto ti invitiamo a lasciare un bel mi piace e ad iscriverti al nostro canale.